Un amore sbocciato sulle pedane della scherma e proseguito col vento nelle vele. Lui, 87 anni, oro e argento nel fioretto alle Olimpiadi, lei campionessa svizzera. La loro passione per una piccola barca l'abbiamo scoperta con questa scherzosa intervista al sole della Sardegna. Marina Perro Carpaneda e Luigi Carpaneda. Dove avete trovato questa barca e da quanto tempo ce l'avete? Questa barca è stata comprata dai miei genitori sul lago di Ginevra. Nel suo primo anno di vita ha vinto il campionato svizzero col suo progettista, che è Copponè, che è un nome molto noto nella vela. I miei hanno deciso di comprare questa barca nel 1953-1954. Abbiamo viaggiato sulle acque, le maniche per un po' di anni, fino al giorno in cui mi sono trasferita qui a Maddalena e ho portato la barca con me nel 1969. Questa barca da sola, perché Luigi lavorava molto, ho girato tutto l'arcipelago, praticamente senza radio, senza motore, senza niente, però mi sono fatto tutte le isole. E poi dopo l'ho un po' abbandonata, perché sono venuti anche il 5,56 metri a tre barche più belle, poverina è rimasta un po' nel dimenticatoio, è stata ricuperata l'anno scorso, è stata data in mano a un bravissimo restauratore più che carpenciere, e con la qua di nuovo galleggiante. Il restauratore ha lavorato soprattutto sulla chiglia, ha messo a posto qualche ordinata, e poi ha rifatto la coperta. L'albero esisteva, è un albero che abbiamo ritrovato a Ginevra, sempre nel cantiere di Coponexi, di quest'albero qua, e mi ricordo davvero la barca così com'era all'inizio della sua vita. Marina si divertiva moltissimo quando siamo venuti qui a Maddalena negli anni 60, e lei l'ha portata negli ultimi anni 60, mentre costruivamo Porto Massimo qua dietro la Maddalena. Lei prendeva la sua barchetta, andava a fare il giro delle isole, si divertiva molto. Io poi in quel periodo lì veleggiavo sull'Ior, che si chiamava Ior con le barche, lì le mie barche si chiamavano Botta Dritta 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo ancora il Botta Dritta 5 che è a Palau, poi le altre si sono un po' sparse per il mondo, ma ci sono ancora tutte. È una formula che deriva dalla stazia internazionale, 6 metri, 8 metri, 12 metri e compagnia della cantante, però hanno fatto una modifica sulla stazia, perché sarebbe stato per la sua piccolezza troppo stretta. Quindi gli hanno messo qualche cosa di più, è una classe svizzera e si chiama 15 metri quadrati stazia nazionale svizzera, il suo nome è vero. Quali sono le sue caratteristiche veliche? Ha una randa piccola, una genoa molto grande, uno spi che è un palone perché il lago è fatto così, è molto marina perché se le dico che ho girato per le isole, insomma, praticamente anche da sola. Eravamo a Portofino, a Santa Margherita, per le regate dei 6 metri, 5,50 metri, e abbiamo portato anche questa barchetta qua. Il comitato di regata, io ero sul 6 metri, un altro mio amico sul 5,50, lei era su questa barca, ha detto che non si facevano le regate perché c'era troppo vento, lei ci ha messo a ridere, è salita su questa barchetta, è andata fuori, ti ricordi, ci ha messo a andare l'acqua e tutti la chiamavano indietro, invece la barca andava benissimo, ti ricordi. La glou 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 font tutti le dindon, e la jolie cloche ding ding dong, ma boom, quando il nostro cuore fa boom.